Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi spiegherò quali sono i tre trucchi fondamentali per montare delle fotografie con Adobe Premiere Pro. Quando capita di dover montare dei video con delle fotografie scattate durante una vacanza oppure perché un amico vi chiede di fare un video con le sue vecchie fotografie capita tantissime volte che a noi montatori, a noi professionisti, gli amici ci vengono a chiedere per il giorno del loro compleanno un video con tutte le loro fotografie. E questa secondo me è una delle più grandi torture che ci possano fare, ossia chiedere una cosa del genere. Quindi quello che voglio fare è spiegarvi quali sono i trucchetti per poter essere più veloci in questo tipo di lavorazione. Andiamo a vedere quali sono questi tre trucchi. Siamo in Adobe Premiere Pro. Cominciamo dal concetto basilare, ossia noi dobbiamo importare il nostro materiale. Quindi io ho una cartellina dove ho selezionato delle fotografie. Ho queste fotografie un po' pescate da Facebook, un po' pescate dalle immagini che avevo conservato e salvato sul mio computer. Diciamo che io voglio prenderle ed importarle. Quindi le seleziono e le importo all'interno del progetto. Questo è il primo errore da fare. Perché? Una volta importate, diciamo che vogliamo cominciare col creare una nuova sequenza. Creiamo una sequenza in full HD a 25 fotogrammi al secondo. Prendo tutte le mie fotografie e le selezioni in questo modo e trascino sulla timeline. E questo è quello che naturalmente otterrò. In queste semplici due procedure abbiamo commesso almeno tre o quattro errori che ci sono costati tantissimo tempo. Andiamo a capire quali. Prima di tutto l'ordine. Cosa significa? Io una volta che ho importato e tirato da una cartella i file all'interno del progetto e poi li ho selezionati e messi sulla mia timeline, ho un ordine che Premier ha deciso, o per meglio dire, che secondo noi Premier ha deciso di sistemare o organizzare. Invece l'ordine l'abbiamo deciso noi. Come? Premier ragiona naturalmente organizzando i file per nome, quindi in ordine alfabetico. E non solo, la selezione dei file, il modo in cui noi selezioniamo i file, pregiudica il modo in cui questi vengono messi in ordine sulla nostra timeline. Mi spiego meglio. Se io cancello tutti i file che ho qui e seleziono dal primo, mantengo premuto lo shift, all'ultimo, il primo file quando adesso andrò a mettere le immagini sulla mia timeline sarà il file 1387. D'accordo? Quindi vado a zoomare. Eccolo qua, 1387. Se io invece seleziono le immagini al contrario, quindi dall'ultima alla prima e le tiro giù, la prima che verrà messa è esattamente l'8155, ossia questo file qui. Quindi Premier ragiona in questo modo qui. Nell'ordine in cui noi selezioniamo i file, lui dopo li ordinerà quando li trascineremo sulla nostra timeline. Quindi arriviamo al trucco numero uno. Il trucco numero uno è rinominare le fotografie nell'ordine in cui volete prima di importarle. Vi faccio un esempio. Io ho la mia cartellina con le mie fotografie, mi è più comodo farlo in una cartella, quindi ordinare le immagini in una cartella, piuttosto che farlo su Premier. Perché se io vado su Premier e comincio a prendere la prima, me la controllo, poi ci metto la seconda, decido, no, sposto da quest'altro lato perché ho sbagliato. No, è tutto molto più confusionario. Invece noi cancelliamo tutto dal nostro progetto, prendiamo la nostra cartellina e cominciamo ad ordinarle. Allora, io voglio che questa immagine qui sia la numero due, e quindi gli do semplicemente un due. Voglio che questa qui sia la numero uno perché mi piace, ci sta bene. E così via, quindi le vado a rinominare per metterle in ordine. E manca la quattro, ok. Adesso io ho le mie fotografie totalmente organizzate ed ordinate, come voglio che vengano montate. Quindi, così facendo, ancora più semplicemente le seleziono tutte e le importo all'interno di Premier. Le vado a selezionare dalla prima all'ultima e le trascino. Così facendo io avrò in timeline le fotografie organizzate ed ordinate secondo la loro numerazione che ho deciso io. E non ci ho perso tantissimo tempo in Premier a cercarle ed organizzarle. Arriviamo adesso a quello che è il secondo trucchetto. Quante volte capita, dopo aver organizzato, sistemato, montato in ordine tutte le immagini, ci accorgiamo che durano o troppo poco o troppo. Nel caso specifico, Premier, con le impostazioni di base, quando importiamo un'immagine, qualsiasi essa sia, quindi una JPEG, una PSD, una PNG, in qualsiasi caso lui imposta una durata base di 5 secondi. Quindi il nostro file, quando lo andiamo a tirare in automatico sulla timeline, durerà 5 secondi. Questo perché? Perché naturalmente è un'immagine, quindi una volta che noi l'abbiamo trascinata sulla nostra timeline, possiamo allungarla, possiamo restringerla senza alcun problema. Ma immaginiamo di dover fare un'operazione ed allungare la durata di tutte le fotografie che noi abbiamo montato. Ora, in questo caso ne ho 6, ma considerate di avere 100 fotografie. Noi dovremmo prendere ogni fotografia, prendere ad esempio uno strumento di montaggio con scarto e andare a tirare tutte le fotografie per farle venire più lunghe, una durata più lunga o come viene richiesta. D'accordo? Con 6 fotografie è fattibile, con 100-200 no. Ma esiste un metodo, come detto in precedenza, intelligente e questo è il secondo trucchetto. Andiamo a modificare quelle che sono le impostazioni di importazione dei file in Premiere Pro. Per prima cosa, questa funzione non funziona di base con gli elementi già importati. Quindi andiamo a cancellare dal nostro progetto. Selezioniamo, in questo caso, essendo su Mac, seleziono la voce Premiere Pro. Invece voi avrete questa voce sotto File, se siete su Windows, File. Andiamo nelle preferenze di Premiere. Quindi andiamo nelle preferenze e selezioniamo la voce Timeline. Come possiamo vedere, di base, Premiere utilizza questi parametri qui. Ossia, le transizioni audio dureranno sempre un secondo quando le impostiamo in automatico. La durata predefinita delle transizioni video è di 25 fotogrammi. Mentre la durata predefinita di un'immagine è di 5 secondi. Noi questo valore possiamo andarlo a cambiare. Ad esempio, mettiamo 3 secondi e diamo l'OK. Da questo momento in poi, tutte le fotografie che noi importiamo avranno come durata di base di 3 secondi. Quindi se io vado ad importarmi tutte le fotografie, come potete vedere, le fotografie finiscono a 3 secondi. Trucchetto numero 2. Andiamo adesso al terzo trucchetto. Una volta messe tutte le fotografie che hanno la durata giusta e sono tutte quante in ordine sulla mia Timeline, una cosa che c'è da fare, molte volte, è aggiungere una dissolvenza. E con santa pazienza andiamo nel pannello controllo effetti, facciamo transizioni video, dissolvenza, dissolvenza incrociata, ed una alla volta le andiamo a piazzare. Questo perché? Perché se noi selezioniamo tutte le immagini e trasciniamo la dissolvenza, la dissolvenza verrà applicata solo al taglio dove noi spostiamo il mouse e non a tutti i tagli presenti nella nostra selezione. Ma naturalmente c'è un trucchetto anche per questo. Come funziona il trucchetto? Il trucchetto funziona nell'utilizzare le scorciatoie da tastiera. Se noi andiamo a selezionare la voce dal menu scelte rapidi da tastiera, ci si aprirà un pannellino dove Premiere ci mostra tutte quelle che sono le selezioni rapide, gli hotkey, le scorciatoie da tastiera, per utilizzare il software. Queste funzioni sono tutte quante personalizzabili. Se andiamo a cercare le funzioni e scriviamo dissolvenza, come potete vedere, esistono due tipologie di dissolvenze applicabili, anzi in verità sono tre. Eccola qua. Ci sono tre dissolvenze a quale è applicabile una scorciatoia da tastiera. Ossia la dissolvenza video per dissolvere al bianco, la dissolvenza video incrociata e la dissolvenza audio incrociata. Io a queste tre transizioni, a queste tre funzioni, ho affidato tre scorciatoie, perché di base non sono abilitate. È semplicissimo. Voi troverete questa funzione qui, in questo modo qui. In pratica, quando comincerete a cercare la parola dissolvenza, vi compariranno quelli che sono i filtri con questa parola all'interno. Cominciamo dal primo. Ad esempio, io ho la dissolvenza al bianco. Basta selezionare sotto alla colonna scelta rapida, premo la W sulla mia tastiera. Stessa cosa, per la dissolvenza incrociata, io ho scelto di cliccare la lettera D. E ancora, per la voce, quindi per la dissolvenza audio, io me la preseleziono, perché tanto il montaggio serve sempre, e seleziono la lettera F. Così facendo, al richiamo di questi comandi, Premier abiliterà in automatico, aggiungerà in automatico delle dissolvenze. Ma andiamo a vedere come. Diamo l'ok e proviamo a selezionare tutte le clip. Adesso io premerò sulla mia tastiera la lettera D. In automatico, Premier ha inserito le dissolvenze a tutti i tagli che ha trovato. In teoria, questi erano i tre trucchetti da utilizzare quando si lavora con le fotografie. Ma andiamo a vedere due bonus. Anzi, un trucchetto bonus ed una tecnica bonus. Prima di tutto, naturalmente, le fotografie, quando le importiamo, a volte sono prese da Facebook e quindi hanno una risoluzione minore. E quindi hanno una risoluzione minore. A volte, invece, sono fotografie scattate da una macchina fotografica e quindi hanno una risoluzione maggiore rispetto al nostro progetto. Una delle cose più comode da fare è selezionare tutto e selezionare tutto il materiale presente in timeline, cliccare con il tasto destro e scegliere ridimensione immagine a fotogramma. Adesso voi non vedete il menu è tagliato, ma fidatevi che qui giù c'è questa spunta. Infatti, cliccando la, Premier porterà a tutto schermo tutte quelle che sono le fotografie più piccole e rimpicciolirà tutte quelle lì che sono più grandi. Così facendo avremo uniformità nelle immagini che vedremo. Ma non è ancora tutto. Una tecnica che voglio spiegarvi, che può essere interessante, ad esempio per queste fotografie qui, dove abbiamo del nero a destra e a sinistra perché la fotografia è quadrata, ci sono due metodi che possono essere utilizzati. Il primo, naturalmente, è andare nel controllo effetti e riscalare un attimo l'immagine e fare in modo che quadri con il nostro fotogramma. Ma la seconda è questa qui. Prendiamo tutte le immagini montate che noi abbiamo, le copiamo, deselezioniamo la traccia numero 1, selezioniamo la traccia numero 2 e selezioniamo la traccia numero 2. Andiamo all'inizio nella nostra timeline ed incolliamo il tutto. Così facendo ne abbiamo fotografie uguali una sopra l'altra. Adesso andiamo a prendere un'immagine campione. Prendiamo la scala e l'aumentiamo. D'accordo? Di un valore qualsiasi. Naturalmente, questo valore che noi andiamo ad aumentare deve servire per riempire quelli che sono i buchi neri del nostro progetto. Andiamo a prendere una sfocatura tra gli effetti. Va bene la gaussiana. Aumentiamo un valore molto atto e aumentiamo ad un valore abbastanza elevato diciamo un 50 e clicchiamo sulla spunta ripeti i pixel del bordo. Così facendo ne abbiamo creato una cornice con la stessa fotografia alla nostra immagine. Ma l'abbiamo fatto per questa immagine qui. Ma noi semplicemente selezioniamo la sfocatura selezioniamo l'effetto di movimento li copiamo e li incolliamo a tutte le fotografie che sono presenti sotto nella traccia numero 1 quindi nella traccia di sotto. Andandola ad incollare dove era visibile prima un tratto nero adesso invece sarà visibile un contorno sfocato. Naturalmente per le fotografie che saranno invece a tutto schermo questo non avverrà anche se in realtà se noi disattiviamo la traccia numero 2 del video la fotografia sotto c'è ed è sfocata. Ma dato che comunque riempie tutto il nostro bordo possiamo tranquillamente evitare di mostrarla. Se invece vi piace semplicemente prendiamo la fotografia che c'è sopra quindi nel livello superiore e andiamo a ridurre leggermente la scala per ottenere lo stesso tipologia di effetto. Insomma siamo arrivati alla fine di questo video. Se questo tutorial vi è risultato utile lasciate un mi piace se avete qualche domanda potete scriverlo nei commenti. Ma se avete anche voi dei suggerimenti come ad esempio delle tecniche che non utilizzate normalmente per poter lavorare con le fotografie scrivetele qui nei commenti così da poter condividere anche con gli altri quelli che sono i nostri trucchi per essere più veloci nella lavorazione. Anche perché qualche altro trucchetto anche a me farebbe comodo a volte. Ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. con un nuovo video. Grazie a tutti